amiche e amici di bpm power oggi sono qua con la mia collega silvia e insieme vi spiegheremo come acquistare i prodotti sul nostro sito ciao a tutti io sono silvia e sono la vice direttrice stiamo realizzando questo video per raccogliere le domande più frequenti che i nostri clienti ci fanno via mail o al telefono innanzitutto la mission di bpm power è proprio quella di pubblicare per primo le novità sul catalogo e sul sito per farlo abbiamo due team che si occupano di tutti i prodotti il primo team si occupa di creare e pubblicare il prodotto con tutte le informazioni identificative necessarie per completare l'acquisto quindi lean una piccolissima descrizione un codice identificativo e soprattutto almeno una foto sarà poi cura del secondo team andare ad espandere ed arricchire la scheda del prodotto come beh innanzitutto migliorando la descrizione aggiungendo dei video e soprattutto aprendola alla nostra utenza che potrà inserire delle recensioni e darvi così un'ulteriore espansione sì a me può capitare che alcuni clienti si imbattano in prodotti che ritengono incompleti ma in realtà così non è perché la parte fondamentale di un prodotto è il titolo e il codice che poi sono le informazioni che vengono riportate in fattura e che danno accesso alla garanzia adesso amedeo vi farà vedere come orientarvi all'interno del sito per finalizzare l'acquisto io intanto vi ricordo che tutti i prezzi che vedete sono iva inclusa anche quello delle spedizioni per capire il costo della spedizione basterà simulare l'acquisto mettendo i prodotti a carrello e scegliendo il metodo di spedizione e di pagamento tutta la simulazione è possibile senza registrarvi iniziamo subito per prima cosa scegliete il prodotto che volete acquistare cliccate sul bottone in alto a destra aggiunge a carrello se vi servono più unità dello stesso prodotto potete modificare il numero direttamente all'interno del vostro carrello scegliere 234 tutti quelli che volete in base alle disponibilità del nostro magazzino questa è una domanda molto gettonata tra i nostri clienti le disponibilità si possono vedere simulando ancora una volta l'ordine mettendo a carrello la quantità che desiderate andando avanti sul tasto continua saranno visionate soltanto le quantità realmente disponibili ad esempio se io voglio 40 pezzi di un determinato prodotto ma in realtà in magazzino ne abbiamo soltanto 20 metterò a carrello 40 cioè la quantità da me desiderata vado avanti sul tasto continua nella schermata successiva saranno presenti a carrello soltanto 20 pezzi cioè la quantità che realmente abbiamo disponibile ben detto silvia non vi resta che ripetere quest'operazione per tutti gli altri prodotti che desiderate inserire a carrello per procedere all'acquisto una volta completata la vostra scelta dovrete semplicemente cliccare avanti e vi ritroverete sulla pagina di riepilogo dell'ordine da questa pagina potete vedere ed eventualmente modificare tutti gli articoli presenti nel vostro carrello da cui vi basterà loggarvi se registri al sito con amazon pay con paypal con facebook con google insomma con moltissimi metodi per andare avanti e concludere infine il nostro ordine dopo aver fatto questi brevissimi passaggi cliccando sul tasto continua vi chiederemo ancora il metodo di spedizione e di pagamento passiamo adesso alle spedizioni potrete scegliere tra corriere espresso che vi consegnerà il pacco direttamente a casa in un indirizzo anche diverso da quello di fatturazione oppure ritiro al tnt point o al brt point scegliete quindi il locker tnt o il brt point più vicino a voi per recarvi comodamente a ritirare il vostro ordine che cosa succede quando il corriere non vi trova a casa in questo caso innanzitutto il corriere tenterà la consegna due volte se anche alla seconda volta non verrete trovati al vostro indirizzo il pacco andrà in giacenza ma non vi preoccupate in quel caso saremo noi stessi a metterci in contatto con voi chiedendovi conferma dell'indirizzo di spedizione altrimenti potete semplicemente scriverci una mail o contattarci telefonicamente per cambiare l'indirizzo un altro servizio offerto da bpm power e la consegna al piano la trovate comodamente all'interno dei metodi di spedizione prevede una consegna su appuntamento tramite corriere specializzato inoltre potete richiedere anche alcuni servizi accessori ad esempio l'installazione l'inversione delle porte e tanti altri semplicemente o chiamandoci o scrivendoci una mail a info chiocciola bpm trattino meno power punto com un'altra delle domande più richieste dai nostri clienti riguarda i tempi di spedizione dei prodotti queste ultime sono scritte sia nella scheda prodotto che nella pagina di riepilogo dell'ordine tenete comunque presente che gli ordini effettuati in serata quindi dopo le 18 vengono elaborati il giorno successivo e che l'ordine viene comunque considerato aperto solo una volta ricevuto il pagamento precisiamo che per tutto il nord e il centro italia il corriere impiega 24 ore per il sud e le isole il corriere impiega 48 ore circa questo perché il tracking vi arriverà nel momento in cui i ragazzi del magazzino prepareranno il pacco però sarà attivo nel momento in cui il corriere prenderà in consegna effettivamente il pacco solitamente questo avviene dopo le 10 di sera ricapitolando l'ordine segue questo iter che potete monitorare dalla pagina stato degli ordini appena lo inserirete esso sarà nuovo passerà poi in aperto una volta che procederete con il pagamento a questo punto andrà in lavorazione quando il nostro magazzino lo sarà lavorando dopo di che passerà in spedito ogni cambiamento di stato dell'ordine sarà accompagnato da una mail fino poi all'ultima che quella contenente il tracking passiamo adesso in rassegna i metodi di pagamento accettati da bpm power bonifico bancario carta di credito ricarica della nostra post pay sisal pay amazon pay satis pay paypal e il contrassegno con previo anticipo del 10% l'anticipo del contrassegno può essere versato con bonifico bancario carta di credito o ricarica della nostra post pay ecco spiegato come acquistare su bpm power.com ma non è finita qua vi ricordo che bpm ha un catalogo veramente enorme con oltre un milione di prodotti vi consiglio di giocare con la barra di ricerca simulare ordini se non trovate quello che cercate beh provate a inserire meno parole utilizzate i filtri mettete i prodotti nella vostra lista dei favoriti insomma c'è di tutto per tutti si amedeo ma non dimenticarti il nostro slogan bpm power il più vasto catalogo online a prezzi imbattibili certo silvia mi raccomando per tutti i prossimi aggiornamenti iscrivetevi al canale youtube mettete un mi piace alla pagina facebook e non dimenticate il follow su instagram ciao alla prossima ciao